buongiorno sono alessandro ferrari e sarò il tuo trainer per questo video corso tecniche di vendita la vendita relazionale sono sempre più le persone che mi chiamano o mi contattano e mi dicono ma sai oggi vendere è più difficile oggi non si vende c'è la crisi io credo che oggi non sia più difficile vendere rispetto a qualche tempo fa diciamo che è diverso oggi i consumatori sono più attenti sono più esigenti sono più difficili da influenzare ecco quindi che se noi utilizziamo lo stesso approccio utilizzato un anno fa due anni fa dieci anni fa ovviamente non possiamo ottenere gli stessi risultati ottenuti un tempo dobbiamo cambiare dobbiamo fare cose nuove dobbiamo adeguarci e probabilmente quello che ci raccontiamo oggi tra qualche anno dovremmo modificarlo ancora perché l'evoluzione è continua i cambiamenti dei consumatori sono evidenti e sono sempre più veloci ma veniamo a noi questo incredibile video corso composto da sette video lezioni che potrai scaricare direttamente sul tuo pc e guardare e riguardare ogni volta che vorrai e quando vorrai accompagnati anche dalle slide è di tutto ciò che verrà detto su cui potrei prendere appunti potrai rileggere potrai approfondire e quindi uno strumento ideale per formarti per acquisire nuove competenze stando comodamente seduto a casa tua o nel tuo ufficio perché in effetti ho fatto questo video corso video corso direttamente derivato dal corso che da qualche anno ormai svolgo in aula in diverse città d'italia e anche in alcune aziende direttamente organizzandolo direttamente al loro interno perché tanta gente magari mi dice ma sai io abito molto lontano rispetto alle città in cui fai il corso non ho tempo sono impegnati il giorno la sera impegni vari mi impediscono di iscrivermi ai tuoi corsi bene questa è l'occasione giusta per te puoi seguire lo stesso corso quasi come essere in prima fila ad uno dei miei seminari live però questo lo potrei fare stando comodamente seduto sul divano di casa tua o sulla scrivania del tuo ufficio ma ora voglio darti qualche dettaglio ulteriore ho detto sette video lezioni quindi riceverai sette video che puoi scaricare sul tuo pc sul tuo pc e sette ebook con le diapositive che riportano integralmente tutto ciò che viene detto nei video non si può che partire dall'impatto iniziale molti esperti ritengono che nei primi due o tre minuti della trattativa di vendita il cliente all'ottanta per cento ha già preso la decisione la decisione cioè di acquistare o di non acquistare il tuo prodotto il tuo servizio diventa quindi importante e cruciale capire quanto sia fondamentale l'impatto iniziale i primi 30 secondi solitamente sono quelli che ci fanno percepire una persona simpatica o antipatica affidabile o inaffidabile e quindi questo ovviamente accade anche al tuo potenziale cliente nei tuoi confronti questi 30 secondi sono importanti ma i primi sette otto sono quelli cruciali nella prima lezione parleremo proprio di questo 30 secondi per fare una buona impressione e tre minuti per vendere andremo a scoprire insieme tutti gli aspetti psicologici e della comunicazione legati proprio alla capacità di entrare subito in sintonia in empatia con il tuo potenziale cliente questo per permettergli di valutare con grande serenità e con grande interesse ciò che avrai da proporgli poi in seguito la seconda video lezione invece è incentrata assolutamente sulla dimensione emotiva della vendita la componente emotiva di qualsiasi vendita è decisamente importante sia che tu venda prodotti industriali prodotti di lusso o prodotti di largo consumo la componente emotiva è sempre preponderante rispetto a quella razionale può sembrare strano ma è veramente così nella seconda lezione approfondiremo proprio tutti gli aspetti legati alla dimensione emotiva ecco perché spesso dico che prima di vendere prodotti o servizi noi tutti vendiamo emozioni quindi capire quali sono le dinamiche emozionali che governano anche la decisione del nostro interlocutore o potenziale cliente ci può aiutare chiaramente ad aumentare sensibilmente le chance di successo la terza video lezione è decisamente importante al pari ovviamente delle altre parliamo di corrispondenza commerciale quante mail ricevi ogni giorno e quante di queste le apri le leggi con attenzione e magari fai acquisti o chiedi informazioni in merito a ciò che hai ricevuto sono veramente poche ebbene oltre il 70 per cento delle mail non vengono neanche aperte in questa terza lezione parleremo proprio di questo come creare lettere commerciali e email che producono risultati che ci fanno vendere i nostri prodotti o i nostri servizi vedremo insieme come impostare la mail come impostare la lettera commerciale quali errori evitare come utilizzare il campo oggetto di fondamentale importanza e ovviamente come strutturare le informazioni relative alla nostra offerta nel corpo della mail o della lettera quindi terza lezione decisamente tecnica ma fondamentale per poter comunicare con efficacia la nostra offerta commerciale ai nostri clienti e ai potenziali clienti se vogliamo diventare i numeri 1 non possiamo che prendere spunto e capire quali sono gli schemi mentali e gli atteggiamenti e i comportamenti dei numeri 1 della vendita questo è l'argomento della quarta video lezione come si diventa il numero 1 della vendita cercheremo di scoprire insieme quali sono i 35 segreti del successo nella vendita la quinta lezione è completamente dedicata all'utilizzo del telefono come strumento di lavoro il telefono è uno strumento di qualità anche se spesso ne abusiamo e non lo utilizziamo certamente ai massimi livelli in questa lezione scopriremo insieme quali sono i metodi più corretti per utilizzarlo quali sono i metodi per superare i filtri del centralino quali sono i metodi più efficaci per riuscire finalmente a prendere a fissare l'appuntamento con il cliente che stiamo rincorrendo veramente da tanto tempo insieme vedremo quindi come utilizzare il telefono come strumento di lavoro in maniera decisamente efficace la sesta lezione invece è incentrata sul valore della nostra offerta se vogliamo vendere di più dobbiamo rendere unica la nostra offerta per renderla unica dobbiamo individuare in maniera precisa e perfetta le esigenze del nostro cliente per individuare le esigenze dobbiamo imparare a fare domande e soprattutto ascoltare in maniera attiva il feedback e i feedback che il nostro cliente o i nostri clienti in ogni istante ci trasmettono dal linguaggio del corpo a come parlano alle risposte che danno alle nostre domande ma chiaramente dobbiamo fare le domande chiave le domande giuste e poi imparare ad ascoltare attivamente tutto questo lo vedremo insieme nella sesta lezione di questo video corso e siamo alla settima e ultima video lezione anche questa di fondamentale importanza perché sai meglio di me che non puoi concludere una vendita se non riesci a superare eventuali obiezioni bene questa video lezione sarà completamente incentrata sul superamento delle obiezioni vedremo insieme come costruire uno strumento di formidabile efficacia per la tua attività o per la tua azienda il libro è il raccoglitore delle obiezioni ti assicuro che questo in molte aziende in cui lo abbiamo applicato lo abbiamo fatto è diventato lo strumento principale di vendita ancora prima del catalogo di vendita oltre a questo vedremo insieme come superare le obiezioni più comuni è troppo caro costa troppo come superare questa obiezione altra obiezione che non è una vera obiezione ma è una falsa obiezione di fronte alla quale molti si bloccano e perdono un sacco di opportunità ora potrai capire e interpretare questa falsa obiezione superarla e ottenere risultati produrre quindi vendite portare a casa ordini da parte di quei clienti ci devo pensare questa è un'obiezione falsa scoprire cosa si nasconde dietro al ci devo pensare diventa fondamentale tutto questo lo approfondiremo quindi nella settima e ultima video lezione di tecniche di vendita la vendita relazionale 7 lezioni più un omaggio sul linguaggio del corpo anche questo è importante perché ti aiuterà a scoprire se il tuo potenziale cliente è interessato a ciò che stai dicendo se ti sta raccontando tutta la verità o sta nascondendo qualcosa anche il regalo che potrai avere partecipando e acquistando questo videocorso è decisamente importante e complementare all'aspetto professionale della vendita approfitta dell'offerta limitata ad un prezzo decisamente eccezionale scopri come leggendo tutte le informazioni sul sito mi auguro di rivederti presto e soprattutto buone vendite